Buon, vai, diamo di secondo. Tre. Quattro, vediamo com'è. Andiamo, quanti ne facciamo? Facciamo il bambino. Ok, adesso potremmo fare, io non ho guardato i gradi, potremmo fare come dice lui, prendiamo il ponghetto e gli mettiamo 196 e 249. Così, intanto io filmo che vedo, si vede che non... la ventucana got. Quindi varia da zero, cos'era prima sull'altro asse, 0,100... Comunque varia di uno 0, un punto 0,40 almeno, no di più, punto 0,60. C'è il bilancino da cocainomani. No, è carino, nel senso... Possiamo iniziare una seconda attività. C'è anche il picchierino quello... Ah, c'è... Va bene, dai. Sì, dai, 242 va bene. Devi metterglielo, non ha 322. Ah, perché ti dà il punto. In questo caso è giusto, perché è da aggiungere così. Ok, l'avete messa in aggiungipeso, ok. Per quello che ti dicevo. Bene. È come quella delle gomme, ti dice dove fermarti. Quello non l'avevo mai visto. Sì. Sì. E' 196. Sì. Va bene, 193. E' 193. Va bene, 193. 0,5 grammi Ha riletto quasi la stessa cosa o sbaglio? Sì, ha migliorato leggermente su tutti quei pesi Questo è il nostro campione, no? O è uno del cliente? L'armatura? Sì No, è di nuovo cambiato Però è da 111, è da 180 adesso, davanti Cioè, 70 gradi di differenza Sì Bene, mando il video